Si celebra il giorno della memoria a ricordo delle vittime dell'olocausto e di tutte le deportazioni. Proprio il 27 gennaio del 1945, per mano dell'armata rossa, vennero liberate le persone che erano detenute nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Noi vogliamo ricordare le vittime e i sopravvissuti allo sterminio e alle persecuzioni nazise dando il benvenuto alla professoressa Ilde Bottoli che è venuta nei nostri studi. Buonasera, benvenuta. Buonasera e grazie per l'invito. Lei è la responsabile del progetto Essere cittadini europei percorsi per una memoria europea attiva che coinvolge 17 istituti superiori del territorio cremonese. Però io vorrei chiedere a lei perché ha deciso di occuparsi di questo progetto soprattutto perché ha deciso di tenere viva la memoria su questi accadimenti. Perché è un modo per continuare il lavoro che aveva iniziato mio padre come sopravvissuto agli Arbaidlager nazisti. Mio padre Enzio Bottoli venne catturato dopo l'8 settembre del 1943 in Grecia e portato con un viaggio in parte a piedi, in parte intradotte cari bestiame nel nord della Germania e lì fu impiegato come schiavo di Hitler insieme ad una lunga lista di italiani nella miniera Constantin der Grosse, miniera di carbone a 900 metri di profondità. Ecco, lei ha appunto fatto una ricerca per scoprire quello che era accaduto a suo padre che lo vogliamo ricordare era un internato, era un militare italiano. Mio padre è stato uno dei 600.000 internati militari italiani catturati dopo l'8 settembre per la condotta pessima della guerra da parte di Badoglio, del re e dello stato maggiore dell'esercito italiano. Mio padre era stato portato nel campo di Bocum, una città della Ruhr e aveva ottenuto la matricola 12.218. Questa è una sua foto ingrandita di lui prigioniero, un documento molto raro. Ma soprattutto noi, io e mio marito, durante l'estate abbiamo trovato nel centro ITS di Bada Rolsen in Germania, i documenti l'ha conservati, conservano i documenti di 17.500.000 perseguitati dal nazismo in tutta Europa, della miniera Constantin der Grosse e la lunga lista dei deportati, tra cui il nome di mio padre, che erano costretti a calarsi in questo terribile pozzo 4 e 5 profondo 900 metri e giunti alla fine in fondo al pozzo erano costretti a caricarsi sulle spalle un tronco che pesava 20 kg e infatti mio padre in un altro documento tedesco, insieme agli altri della lista, è classificato come trattore per sottolineare la disumanizzazione del prigioniero che i tedeschi impiegavano. Immagino che i racconti che suo padre le ha fatto saranno terribili. Mio padre ha sempre raccontato, non solo, ha sempre lavorato per questa memoria e per questo lui ha ottenuto il titolo di ufficiale di cavaliere da due presidenti della Repubblica e questo io lo considero un grande onore. Per questo motivo lei appunto organizza i viaggi della memoria, ne ha organizzati davvero tanti. Io le vorrei chiedere come vivono i ragazzi, i ragazzi giovani, questa esperienza, quando proprio calcano quei terreni, quei suoli, quando vedono queste strutture, percepiscono ancora il dolore che hanno provato le persone che gli sono state internate, che gli hanno trovato la morte? I ragazzi sono stupendi quando compiono queste visite. Naturalmente vengono preparati perché la conoscenza è un elemento imprescindibile di questo progetto e siccome hanno la consapevolezza che quel poco che rimane, che riescono a vedere, però carico di una memoria e di una sofferenza atroce, è un vero e proprio pellegrinaggio laico e soprattutto si manifesta il loro dolore, la loro partecipazione nella cerimonia che ogni anno facciamo nei luoghi che visitiamo, dedicata alle vittime, con letture, canti preparati appositamente dalle scuole e lì i loro visi parlano, sono veramente fantastici. Appunto in conclusione, ricordando questo giorno della memoria, che messaggio si sente di lanciare? Primo, che non deve diventare un rito vuoto, perché bisogna che questo giorno della memoria serva per ricordare che ciò è stato possibile, che ciò è anche accaduto di nuovo se non in quelle proporzioni, che oggi la realtà molto complessa che viviamo anche in Europa ci pone ancora il problema del rapporto con l'altro, del riconoscere le diversità, del rispetto della dignità umana. Grazie davvero, ringraziamo la professoressa Ilde Bottoli, ricordiamo responsabile del progetto Essere cittadini europei percorsi per una memoria europea attiva. Grazie davvero, buonasera. Buonasera, grazie.